Subito davanti parte Seven e l'estrato vincitore dei 1.5 e 6 e 6 la mattina di mezzo a giro Let's go crazy Ieri 9 milioni di mesi come detto spesso in questi due giorni e scegliamo sotto i 9 secondi al giro e le stagione un compagno di squadra scanta per testa rimangono avanti in 2 chiusura allora ultimo giro sotto i 9 due secondi signore e signori 41 e 1 si vuole a sua ghiaccia del Paloia 41 e 1